L'idea della globalizzazione era un lontano ricordo, insieme all'immenso spreco che ha creato. Alla fine nessuna industria piccola o grande disdegnava questo metodo. La stessa forza operaia, con l'ausilio dell'automazione, finalmente applicata come sistema di produzione, migliorò incredibilmente in termini di efficienza e capacità, con sempre meno sforzo umano necessario nel tempo. Entro la metà del ventunesimo secolo anche l'idea della produzione di massa venne accantonata, poiché il progresso della robotica modulare e la nanotecnologia fecero sì che la produzione avvenisse sul posto e a richiesta, in una varietà che non si era mai vista durante il capitalismo. L'idea di produrre beni su larga scala e immagazzinarli non esisteva più. Infatti, nella maggior parte delle case c'era ormai una stanza di produzione dove si stampavano abiti e utensili domestici di uso comune, direttamente in loco. E mano a mano che l'efficienza crebbe sempre più, portando il mondo in una condizione di abbondanza post-scarsità, dove nel contesto educativo della legge naturale, riconoscendo l'esistenza di limiti alla crescita e al consumo e rispettandoli, emerse un nuovo sistema valoriale che si gloriava della capacità di migliorare l'efficienza e mantenere l'equilibrio ecologico e la sostenibilità. E non solo la sostenibilità fisica in sé e per sé, ma la sostenibilità culturale. Essere in grado di prendersi cura di tutti non era una poetica conseguenza. Creare una forma di armonia terrena sconosciuta sino ad allora era uno scopo fondamentale. Ovviamente nessuna di queste transizioni furono in dolore. L'economia del mercato e coloro che ne trovano maggior profitto tentarono sistematicamente di fermare questa trasformazione, perché il loro stato salitario veniva messo in discussione. Ci vollero decenni di attivismo e di dimostrazioni in tutto il mondo, incluse persone potenti e facoltose, convinte che la vita potesse essere molto migliore anche per loro, oltre che per tutti gli altri, e che il vecchio sistema di mercato era semplicemente incompatibile con questo nuovo paradigma di efficienza ottimizzata e di efficienza assolutamente necessaria. Non solo per il progresso della società, ma per salvarla. Grazie a tutti.